Buongiorno a tutti qui è sempre Arduino Schenato da ARForex.com e in questo video guarderemo un esempio sul doppio minimo higher close o doppio minimo higher high o doppio minimo higher se volete abbreviare. Questo tipo di input l'ho creato tantissimi anni fa ancora quando scrissi il mio primo ebook professional trader tra il 2009 e il 2010 e qui è un esempio di una possibilità di trading molto interessante che non ho tradato ma che voglio mostrarvi a voi così l'analizzo per me l'analizzo per voi e la vediamo insieme. Allora in questo caso abbiamo avuto proprio un doppio minimo higher in questa in questa zona eccolo qui praticamente tra il 2 e il 3 di settembre se non sbaglio si tra il 2 e il 3 eccolo qui e vediamo perché questo doppio minimo in effetti poteva avere le caratteristiche per essere tradato. Ripeto non l'ho tradato ma sicuramente questo aveva le caratteristiche. Allora andiamo a vedere che cosa era successo sul grafico settimanale quindi si parte sempre dalla nostra mappa e la nostra mappa è sul grafico settimanale e la nostra mappa sul grafico settimanale ci mostrava ovviamente questa gamba rialzista poi da qui dei swing guardate swing high swing low swing high swing low si fermava e poi è ritornato in area 089. Chi mi segue saprà che avevo dato proprio come 089 area importantissima per non vedere diciamo delle chiusure sotto questa zona nel breve termine. Questa zona era una zona sicuramente molto importante quindi di domanda dove se si fossero venuti a creare dei segnali o comunque delle dinamiche classiche del mio piano di trading come per esempio questo doppio minimo higher o una pin bar o un in safe fake out si poteva tradare. Allora andiamo a vedere quindi sul daily che cosa è successo ovviamente quindi però abbiamo una mappa quindi un weekly che ci sta indicando la possibilità che su questa zona l'acquisto può essere interessante. Andando sul grafico daily vediamo come in effetti la zona che poi praticamente prendeva tutta quest'area che adesso vado a disegnare in questo modo per fare capire che la zona era una zona calda per degli acquisti una zona di quelle che io chiamo zona di domanda eccolo qua è proprio qui adesso il mercato sta sparando e in effetti ho un po' sottovalutato io questa questo segnale questo in più dei prezzi che avevo notato e che su cui non ho fatto così affidamento invece poi guardandolo bene in effetti aveva tutte le caratteristiche addirittura se andiamo a prendere il minimo di questo doppio minimo higher quindi 0.88.65.4 in bid sulla metatrader se andiamo a prendere questo minimo 88.63.5 quindi qui abbiamo abbiamo detto un low a 65.4 questo a 63.5 quindi praticamente non lo ha rotto ma ci siamo andati praticamente vicinissimi siamo andati lì quindi l'ho andato a testare ok e soprattutto oltre a essere andato a testarlo la cosa importante che ha fatto qui che è la cosa poi importante che rende questo doppio minimo higher veramente più affidabile è il fatto che su questa zona 0.89 lui abbia fatto una falsa rottura cioè è stato rotto lo 0.89 andando appunto sotto lo 0.89 addirittura testando questi minimi e recuperando come è successo qui è successo anche qui ed ecco la discrezionalità che deve avere la price action ecco il ragionamento che si deve fare che non è niente di complicato una volta che si entra nel meccanismo ma che necessita di esperienza ecco che il doppio minimo higher che si è formato recupera 0.89 che era il livello da breccare da recuperare ritesta praticamente i minimi precedenti e crea questo inoltre la cosa bella è che si potevano avere delle conferme quindi una volta che abbiamo questo non è che per forza dobbiamo entrare a breakout e andare stop qui o entrare su dei ritracciamenti e andare poi a stop qui e gestire la posizione no si può tranquillamente come sapete andare su grafico a 4 ore e ricercare dopo l'input delle delle dinamiche o dei segnali di prezzo ecco che in due occasioni ma io qui anche tre perché in realtà questo questo e questo potevano essere tranquillamente definite dinamiche long ma direi prendiamo la prima quindi subito dopo l'input vedete che abbiamo avuto consolidamento questa mini pin bar abbiamo avuto questo doppio minimo higher nuovamente e quindi abbiamo avuto tutta questa dinamica qui che poteva essere utilizzata per esempio mi viene da pensare l'ultima bella è proprio questa qui più di questa che a breakout di questo massimo con uno stop subito sotto i minimi poteva portare a un movimento veramente con un risk reward che andava veramente a essere top a livello di dinamica dei prezzi quindi sicuramente interessante e come estensione quindi dove andare a prendere profitto si poteva tranquillamente fare una cosa del genere andare a vedere dove ci potevano essere più confluenze di prezzo e quindi dove ci poteva essere la presa di profitto e qui mi viene da dire che il t5 era l'area dove magari si poteva prendere profitto quindi questa zona qui che corrispondeva con questi massimi è la zona chiave lo 0,90 e 45 però andiamo a valutare se io vado a prendere questo 4 ore quindi questa conferma e andavo a comprare a breakout di questo doppio minimo quindi andavo a comprare qui e lo stop lo andavo a postare qui quindi gli davo leggermente un po' di aria sotto i minimi andavo praticamente ad avere sul t5 un risk reward guardate se io vado a prendere circa qua e poi andavo qui eccolo qui di circa un 1 a 2 sul t5 se io vado a prendere invece il segnale daily e quindi vado a comprare direttamente a breakout qui e vado a stopparmi qui se vado a prendere il t5 come target potete ben capire che sul t5 direi che probabilmente non abbiamo neanche un 1 a forse abbiamo un 1 a 1 e mezzo forse non abbiamo sicuramente un target di 1 a 2 facile senza contare il fatto che io potrei anche tranquillamente non avere inserito l'obiettivo qua ma averlo inserito tra t6 e t7 dove c'è realmente un'area importante perché se poi andiamo a prendere tutto il quadro il vero punto di offerta diventa questo no? e questo punto qui che è la vera area di offerta va a corrispondersi praticamente tra il t6 e il t7 cioè 91 e 40 e poi vi voglio far vedere una cosa però se io adesso vado sul settimanale e quindi prendo questa situazione quindi cancello il vecchio fibonacci e inserisco il fibonacci su questa indecision bar quindi quella che fa swing vedrete che guardate vado a fare questo vedrete che il t7 è un obiettivo enorme settimanale e il t5 che sappiamo essere statisticamente migliore in effetti corrisponde con quelle aree guardate corrisponde con le zone più importanti e quindi quando andiamo a inserire anche le nostre estensioni diciamo che va bene inserirle sul segnale ma dobbiamo tendenzialmente inserirle anche per esempio sul settimanale qualora il settimanale nel movimento di prezzo ci mostra dei swing molto chiari come quello che è stato formato da quella indecision bar che ho segnato quindi in questo caso in realtà il t5 daily che andava qui ci poteva stare ma nell'ottica di prendere un movimento più ampio e quindi andare verso questa zona qui abbiamo una confluenza pazzesca tra il t5 che è statisticamente uno dei target migliori che utilizziamo 91.28 quindi su questa zona era la migliore presa di profitto quindi ritorniamo a bomba siamo entrati a su quest'area pam e ci mettiamo lo stop qui è ovvio che quando io mi metto a fare questo e vado a t5 weekly potete ben capire che il t5 weekly fa 1 per 2 per 3 per diciamo quasi 4 per significa che per 100 che rischio avrò 400 che prendo e quindi se io vado a riprendermi tutto tutto l'ambaradan e invece compro direttamente senza conferme avrò un 1 a 1 circa qui avrò un 1 a 2 circa qui e avrò praticamente un 1 a 2,2 che per carità è un ottimo risk reward però sicuramente con la conferma 4 ore e diciamo l'entrata e uscita proprio su quella dinamica riusciamo a far diventare il 2,2 magari un 3,8 quindi un quasi 4 questo nel lungo periodo questo 1,5 ovviamente ci porta ad avere un vantaggio competitivo sul mercato assolutamente grandissimo quindi doppio minimo hire livelli allora ripetiamo weekly con una certa struttura doppio minimo hire che fa falsa rottura ritorna sul livello conferma 4 ore e estensione di fibonacci direttamente sull'ultimo swing weekly questo è ciò che noi facciamo sul platino ogni giorno questo è quello che cerchiamo di diciamo condividere con voi trasmettendovi come lavoriamo il nostro approccio la nostra mentalità e la nostra gestione del rischio e del rendimento e quindi facendo trading da imprenditore insomma questa è un po' la cosa io quindi a questo punto vi saluto spero abbiate gradito anche questa pillola di trading esempio pratico proprio di una possibile opportunità che ripeto non ho preso non ho tradato ma che con voi vedo e voglio analizzare insieme e quindi questo è spunto per una crescita mia e vostra vi auguro un buon trading simple mettete un bel mi piace ovviamente se vi è piaciuto il video se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti grazie